Alessandro Fermi, i primi giorni come assessore all'università, qual è stato l'impatto? L'impatto è stato come tutti gli impatti nuovi, un po' di confusione perché il mondo è nuovo, la necessità di imparare in fretta, tante richieste di incontri perché poi è un mondo che ovviamente vuole conoscere chi sarà il referente di Regione Lombardia in quell'ambito, però ha un impatto molto positivo perché sono temi, quelli dell'innovazione, della ricerca e dell'università, propositivi e quindi è un assessorato di proposte, è un assessorato di idee, è un assessorato che non ha particolari problemi ma su cui si svilupperà comunque il futuro della Lombardia perché la ricerca e l'innovazione sono due settori che nessuno ci può copiare, il DNA Lombardo è un DNA pieno di ingegno, pieno di voglia di fare, di inventiva e quindi questo caso qui non ci può copiare nessuno. Ci sono anche parecchi fondi in parte che arrivano dall'Europa che andranno investiti nei prossimi 5-6 anni e quindi lo stimolo è quello di cercare di sviluppare questo mondo di cui i Lombardi in generale sono sempre stati per natura, per DNA, per caratteristiche dei grandi maestri ed è una cosa che nessuno ci può rubare, nessuno ci abbiamo dentro noi e va sviluppata e quindi il futuro della Lombardia in campo della ricerca e innovazione sarà sicuramente uno dei futuri un futuro che resterà e andrà finanziato e andrà ampliato con un grande collegamento con l'università anche rispetto al tema della ricerca universitaria. I fondi arriveranno anche alle università di Lecco e di Como? I fondi arriveranno anche all'università, c'è il grande tema del diritto allo studio in cui bisogna recuperare un po' di risorse perché le borse di studio sono negli anni aumentate, è aumentato anche un pochino la capienza della borsa di studio come quantità economica ma sono anche aumentate le richieste e quindi bisogna cercare lì di investire un po' di risorse che sono risorse statali trasferite in parte alle regioni perché il diritto allo studio con il costo della vita che c'è nelle città deve garantire soprattutto ad una regione che ha quasi il 33% di studenti che arrivano da fuori regione la possibilità di poter vivere e studiare perché questa è una grande caratteristica dell'università lombarda il fatto di avere un terzo di studenti che scelgono di venire in Lombardia a fare la propria formazione.